Un detenuto e un agente di polizia penitenziaria del carcere in due palazzi di Padova sono stati picchiati da un ergastolano condannato per mafia. L'aggressione è avvenuta per futili motivi, pare durante un cambio di cella. L'agente della penitenziaria è stato preso a pugni, sia il primo che il secondo aggredito non sono gravi. Il SAP, sindacato autonomo di polizia penitenziaria, segnala una situazione che si fa sempre più critica all'interno dei due palazzi, perché, dicono, ci sono detenuti con fine pena di durate molto diverse. Inoltre, per il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, servono interventi urgenti e strutturali che restituiscano la giusta legalità al circuito penitenziario, intervenendo in primis sul regime custodiale aperto.